Per celebrare il decimo anniversario del gioco, Squad e Private Division hanno annunciato che Kirbol Space Program in Anzed Edition uscirà per PS5 e Xbox Series X e S entro la fine dell'anno. Il gioco, acclamato dalla critica, è arrivato su PS4 e Xbox One nel 2016 e coloro che hanno acquistato il gioco su entrambe le piattaforme saranno felici di sapere che l'aggiornamento di nuova generazione sarà gratuito. La versione di nuova generazione presenterà numerosi miglioramenti, tra cui grafica e framerate migliorati, supporto per mouse, tastiera e altro ancora. Per chi non ha familiarità con il gioco, Kirbol Space Program è un gioco di simulazione di volo spaziale con una razza aliena conosciuta come Kirbol. I giocatori devono costruire diversi progetti e lanciarli dal Kirbol Space Center. Il gioco ha ricevuto ampi consensi nell'ultimo decennio, vincendo numerosi premi dopo la sua uscita. Nel video si possono vedere alcuni ingegneri che discutono della loro introduzione al gioco e del modo in cui sta ispirando gli altri a intraprendere percorsi simili. È incredibile vedere che tipo di impatto ha avuto il titolo sui giocatori nell'ultimo decennio. Il gioco arriverà sulla Next Gen quest'autunno. Se la notizia ti è piaciuta, lascia un like e un commento.